Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Quest'anno è stato, diciamo, completamente caratterizzato anche da onore economiche estremamente perfettive. Il Comune di Catoia ha pubblicato, diciamo, sulle sue case in taglio di trasfermieri e ha dovuto fare i conti con l'imposta, che è una nuova imposta che per il Comune, diciamo, la pretenda, la componente più iniziativa delle entrate, quale è, diciamo, lì, che è stata in prodotta quasi in modo organizzato, con una scarsa definizione delle regole, se non le abbiamo proprietà, che si possa danno, e accompagnate, si arriva solo a questa testa circolare, che è questa non c'è da sedia anche nel 2011. Naturalmente, su un ragionamento di programmazione, che deve comunque caratterizzare qualsiasi entrate le locali di Catoia, come tutti i comuni da evitare, ha ancora una volta potuto rinunciare a una scarsa programmazione, indietro di una serie di simurevoli rinviti per il cadente finanziamento di territorio, naturalmente motivate dal Ministero in ragione dei dati con i quali il regole, diciamo, della programmazione nazionale venivano rinunciate. In questo contesto, naturalmente, un affetto rilevante, diciamo, assume nella storia anche i termini di continuazione dei due detretti. E con i due detretti ci abbiamo lanciato un fortificante del taglio dei trasferimenti, dei mesi, quindi noi partiremo comunque un taglio di rilevante, nello stesso tempo acconteremo, dovremo dare la nuova sfida della Catoia, dove non si arrivi ad un eventuale invito, anche per l'interazione che è stata riva, ma quello che oggi, diciamo, mi preoccupa completamente che il primo è l'aspetto espressionale che sono preoccupata nell'aspetto della risoluzione. Ho avuto la settimana scorsa una comunicazione, diciamo, trasmessa nella quale si annunciava un rendito della sua prima carenza del suo. Io inizio a sottolineare, dico perché in Comune rappresenta la risoluzione di un'ottica che della città che giustifica che i dati di un'attività di un'attività che quindi il Paese ancora più fosse, in senso di responsabilità, in capoluzione. Ma il Comune per poter esercizionare la sua attività e parte un'ottica di una programmazione di un'attività che si occupa di un'attività che si può riferirsi a sottolineare, ma soprattutto i tempi della propria risoluzione. Ma, ecco, se effettivamente vale la regola dell'esensuale del mio, della prima carenza del mio, e le regole del suo di la data, che diamo comunque determinate, terminate con l'immagine non più tardi diciamo di giugno, quest'anno vorremmo il rischio di vedere costretti i nostri cittadini a dover sostenere comunque il percorso, anche il risultato, a fine anno, ancora un anno ben visto assoluto dato dell'autogramma di progetto. quest'anno che diciamo siamo arrivati a e qui abbiamo un risultato economico che avrei fatto in un'ottica che sarà dovuto fare pori 1 9 momento e poi poi partiamo per poter le salute nazionale, più gente, più una programma di progettoRo Noi troviamo tutto il fatto di amministrazione, che potrebbe essere la problematica delle discussioni che si parla prima e che l'anno accompagnata da un attestamento estremamente spente della situazione pubblica, si trova comunque in posizione da tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi suoi. Ancora tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi 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 suoi. Ancora tutti i suoi 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 Io concluderei, diciamo, il mio dettaglio è stato tentato a mettere le discussioni del rituale. No, ringrazio la Sessore, la Sessore della risposta per l'allevazione prodotta e la rinnovazione alla discussione del campo in questione. Ci vuole intervenire sempre caro di relazio. Grazie.